Turo Del 1900 la storia parlerà e degli eroi che Pechino massacrò 55 giorni uniti, ognuno per la sua bandiera provarono gloria nel coraggio e nell'onore la grande insurrezione contro tutti gli stranieri esaltò nell'odio in boxe e la guerra si scatenò i russi e gli italiani, gli inglesi e gli marisconi con i giapponesi si imbatterono laggiù si udiva il rullo dei tamburi si udì la tromba e suonà e le giuppe rosse cominciarono a sparar ora facciano i tamburi ma quel eco resterà ed il grido di quel boxer non si spegnerà mai più 55 giorni puliti nell'onore i nostri frilli combatterò con valore bom 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 Grazie a tutti, grazie a tutti.